ciao dolcezze pokémon go sta facendo impazzire il mondo e allora mi sono detta perché non creare una torta pokémon go prima di tutto ho realizzato la mia base e che troverete poi tutte le indicazioni nelle informazioni e utilizzato anche la crema pasticcera al cioccolato la preferita di mio se volete anche la ricetta della crema pasticcera le troverete nel blog oppure nell'info box e poi ho aggiunto il disco di riso soffiato e cioccolato quindi ho messo di nuovo l'altra base di panni spagna e poi con la rimanente crema pasticcera al cioccolato ho ricoperto tutti i lati in modo che non ci sia nessun spazio poi sono passate diciamo la stuccatura della torta usando della ganache al cioccolato bianca che ho messo dentro il frigo poi l'ho fatta indurire e poi l'ho ricoperta di nuovo per avere una copertura migliore quindi ho deciso di ricoprire la torta tutta di color verde ho steso la pasta di zucchero e poi ho ricoperto la torta poi ho ritagliato tutta la pasta in più a questo punto ho steso la pasta di zucchero bianca e mi sono ricavata un cerchio poi ho tracciato delle linee per capire dove era il centro e usando dei coppapasta rotondi di diverse circonferenze ho tagliato il centro in pratica questo quello che sto realizzando in questo momento è il campo di battaglia della palestra o almeno così mi sono fatta spiegare dal mio figlio spero quindi di non sbagliare ed in pratica sembra una pokeball aiutandomi con il tappetino l'ho messa sopra la torta facendola in questo modo invece rimane più simile a alla forma originale ho notato che sopra questo campo di battaglia, questa palestra ci sono anche dei triangolini gialli e poi anche altri due pezzettini rettangolari ai lati ai lati della torta ho deciso di realizzare le strade quelle proprio della pubblicità del pokemon quindi ho tagliato tantissime striscioline verdi e ho posizionate su della pasta di zucchero gialla e non so se vedete ma la pasta di zucchero gialla è leggermente più larga ai lati per incollarli ho utilizzato semplicemente dell'acqua e quindi poi l'ho sistemata sui lati della torta dopodiché invece con della pasta di zucchero color celestino mi sono ricavata tanti quadratini e rettangolini e li ho messi proprio ai lati della strada ho notato anche che ci sono questi punti credo che sia dove si trovano i pokemon e quindi l'ho realizzati usando uno stecchino all'interno infilzato della pasta di zucchero celeste e facendo pressione con le mie mani in pratica ho ricoperto lo stecchino poi ho realizzato invece un rettangolino e poi invece un altro cubo e l'ho posizionato sulla torta dal momento che io non gioco con pokemon go ho chiesto al mio figlio quale i pokemon potessero andare sulla torta e lui mi ha detto di mettere squirtle e charminers così invece di creare dei cake topper questa volta le ho voluti stampare in modo che le decorazioni siano facili proprio per tutti altrimenti invece di usare cartoncino comunque si possono comprare i giocattolini quindi l'ho ritagliati e poi con dello scotch ho anche incollato degli stecchini quindi infine li ho posizionati sulla torta proprio sulla palestra dove poi faranno la battaglia questi pokemon adesso tagliamo insieme anche la torta per vedere l'interno ecco così si vede meglio e si vede anche l'interno spero proprio che la torta vi sia piaciuta e che la realizzerete magari per i vostri cari e fatemi sapere se avete qualche consiglio per un futuro video e io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao